Scuole sangiovannesi sotto l'osservazione della minoranza. La questione è legata al recentemente approvato bilancio di previsione fino al 2020 ed il consigliere Mario Marziali fa notare come se da un lato sia carente in questo senso l'ordinaria amministrazione, dall'altro non è stato nemmeno possibile arrivare, a differenza di altri comuni del Valdarno, ad ottenere finanziamenti regionali ed europei per migliorie globali degli istituti stessi. Le scuole a San Giovanni in questo momento se entriamo in una scuola come potrebbe essere le medie Masaccio oppure la scuola elementare del Porcellino bisogna entrarci con l'ombrello, a parte anche che la scuola media Masaccio è priva per metà di riscaldamento da diversi giorni e ci meraviglia il fatto che i comuni come Cavriglia, come Buscine, come Pergine, come Montevarchi abbiano ricevuto due milioni cada uno per ristrutturazione delle scuole. E noi niente. Da precisare che San Giovanni Valdarno ha tutte le scuole di ordine e grado dalla scuola primaria dell'infanzia all'università. Quindi allora cosa pensiamo noi? Che manchi la progettualità, che manchino le idee, le idee politiche con lungimiranza a tempo indeterminato, non a breve.